Una squadra che deve giocare contro i tredi deve fare così, speriamo di imparare, come è che sei la parte già? Spettacolo? Sì, spettacolo. Come andiamo? Alla fine facciamo la differenza così. Ciao Leo, ciao, complimenti, incantare veramente, complimenti. Complimenti, complimenti. Ho visto giocare tanti giocatori ma sei veramente un fenomeno, complimenti. Stava a suo lago, dopo che chutarvi, 3 secondi prima, quando stava solo con Gualdi ha detto gol. E lo ha cantato. Sabe a cui piace molto Argentina? Sì, mi viene a casa. Il mio mio è venito di Argentina. Sì? Sì. Sì, dove va? La Pampa. Sì, da Santa Rosa. Non conozco nada, però che va a mi siner... Non, 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 non. Non, 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 non grazie a tutti